A Quaroli annuncia la zona arancione è un rischio sempre più concreto. Commercio in crisi ma sabato iniziano i saldi in tutte le regioni. Università di Urbino, i progetti del 2021 del rettore Calcagnini. Italservice a Parigi pronta alla grande sfida di Champions League. Buonasera, benvenuti al telegiornale di Rossini TV. Oggi è giovedì 14 gennaio e in apertura. Parliamo delle restrizioni ormai alle porte rispetto all'attuale zona gialla. Poche ore fa infatti in un post pubblicato su Facebook il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli ha riferito di aver appreso in mattinata dalla conferenza Stato-Regioni che il criterio per i colori non è più solo l'indice RT ma comprende anche la valutazione dei rischi in base allo stato di sofferenze delle terapie intensive e alla stima dei focolai. Un cambio di valutazione che secondo Acquaroli crea disorientamento e che crea limitazioni alle Marche con l'indice RT sotto a 1. Acquaroli ha invocato un altro confronto con le regioni su scelte così importanti perché le Marche ora rischiano concretamente la zona arancione e restrizioni per settimane. E vediamo dunque la radiografia attuale della regione Marche attraverso i dati forniti dal Servizio Sanitario Regionale che mantengono cifre di contagio sostenute. Sono 506 positivi in regione su 4.482 nuove diagnosi nelle ultime 24 ore. Complessivamente sono stati effettuati 6.667 tamponi. I casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 151. Nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 18 decessi. E per tracciare in maniera più incisiva i contagi del Covid-19 continuano chiaramente anche gli screening di massa nella nostra provincia. Ieri sera si è concluso infatti lo screening nella città di Fano. Da sabato si comincia a Vallefoglia, Gabicce, Gradara e in tanti altri paesi del nostro entroterra. 17.703 tamponi effettuati, 129 positivi asintomatici trovati. Questo il bilancio della fase 2 dello screening di massa voluto dalla Regione Marche che dall'8 al 13 gennaio ha sottoposto a tamponi rapidi, gratuiti e volontari i cittadini di Fano, Marotta-Mondolfo, Cartoceto, Monbaroccio e San Costanzo. Si è sottoposta al test circa il 20% della popolazione interessata con dati in linea a quelli rilevati a Pesaro e Urbino nel periodo prenatalizio. Soddisfatto il sindaco di Fano, Massimo Seri. Le cose sono andate molto bene. Ancora una volta abbiamo dimostrato che questa città, quando ci sono le emergenze, quando ci sono le organizzazioni, le situazioni complesse da organizzare, è sempre all'altezza. E dimostra grande efficienza e dimostra di essere un'eccellenza. Quindi lasciatemi dire veramente un grazie a tutti, ma questo che si è concluso oggi è anche un'azione che significa volersi bene, significa essere responsabili, tutelare la nostra salute e quella della comunità. Ed ora inizia la fase 3 dello screening. Da sabato e fino al 21 gennaio a sottoporsi ai test potranno essere infatti cittadini di Vallefoglia, Coglie al Metauro, Mondavio, Monte Felcino, Monte Porzio, Terre Roveresche, Gabicce Mare, Gradara, Monte Labate, Tavuglia, Petriano e Monte Calvo in Foglia. Ed ora cambiamo completamente argomento e parliamo dei saldi perché questo sabato iniziano appunto i saldi in tutta la Regione Marche. Un inizio posticipato rispetto alle abitudini di gennaio e che parte con l'incertezza delle restrizioni dell'attuale zona gialla. Vediamo il servizio. Sabato 16 gennaio cominciano i saldi invernali in tutta la Regione Marche. Un inizio posticipato rispetto alle abitudini che prevedevano le svendite a ridosso dell'Epifania ma che ritrae la particolarità del periodo. La Regione è infatti andata incontro ad una specifica richiesta del comparto commerciale prorogando fino ad oggi le vendite promozionali e aprendo la stagione dei saldi solo nella seconda metà di gennaio. La speranza è di aprire anche un 2021 diverso dopo un 2020 logorante per le attività commerciali. È un momento brutto quello che noi stiamo vivendo non per la parte dei saldi o delle vendite promozionali ma proprio per il problema della pandemia che ci sta colpendo. Quest'anno la Regione Marche, anche su richiesta delle associazioni di categorie, ha chiesto di posticipare i saldi che normalmente sarebbero dovuti partire il primo sabato del mese di gennaio dando l'opportunità comunque quindi di gestire un pochettino meglio il periodo natalizio che è quello che non consente la vendita a prezzo pieno perché molte persone piuttosto che acquistare nel periodo natalizio cosa fanno? Aspettano che arrivi il saldo dopo dieci giorni. Etimologicamente la parola saldo e la vendita di fine stagione non ha, secondo noi e da tanto che facciamo questa polemica, non ha assolutamente valenza quella di poterla aprire i primi di gennaio quando il mese di 21 di dicembre inizia l'inverno. E i saldi cominceranno proprio in concomitanza al balletto ministeriale fra zona gialla e zona arancione. Spetterà dunque agli acquirenti adeguarsi di conseguenza. Per legge il saldo inizia il 16 e poi bisognerà andare a comprare e questo il cliente poi dopo dovrà dimostrare attraverso l'autocertificazione che sta andando per motivi di necessità perché si può muovere soltanto per motivi di necessità di saluto e di lavoro. Però se io vado a comprare è logico che è un motivo di necessità. Il 16 ci auguriamo che questi saldi portino quel beneficio alle attività, che portino quell'ossigeno necessario per far fronte a tasse e tributi imposte e a tutte le cabelle che il commercio deve pagare in questo momento. E se il commercio è in affanno non è da meno il settore della moda e dell'abbigliamento che fra chiusura dell'export e limitazioni ai negozi ha chiuso un 2020 disastroso. Come ci spiega in questa prossima intervista il segretario provinciale della CNA Moreno Bordoni. È davvero un anno devastante per il settore della moda in particolare ma per tutte le attività, soprattutto manifatturiere della nostra provincia anche. Quello della moda è un settore che da troppi anni era in crisi e il 2020 non è stato un anno orribilis ma è stato un anno completamente da cancellare. Considerate che su 12 mesi effettivamente si è lavorato un mese e mezzo e nella moda in cui le stagioni si anticipano di quasi un anno è addirittura a rischio anche la situazione dell'autunno-inverno 2021-2022 perché tra le chiusure dei negozi, tra le mancate situazioni della primavera-estate del 2020 e dell'autunno-inverno 2020-2021 le aziende dopo un anno di praticamente lockdown totale a livello economico sono davvero in grandissima difficoltà con un calo medio di oltre il 37%, quasi il 40% ma con punte molto importanti in tantissime aziende di un calo di fatturato che va oltre il 50%. Quindi situazione davvero molto difficile che ha fatto sì anche che da un soldaggio nazionale riportato dalla CNA e quindi anche fatto su dati di ogni tipo di provincia, anche la nostra di Pesio Urbino se continua così, se non ci saranno dei ristori a fondo perduto non ci saranno ammortizzatori sociali per le maestranze delle nostre aziende un'azienda su quattro ha paura di chiudere. In tutta questa situazione bisogna poi rilevare il blocco totale praticamente dell'export in questo momento vola un aereo su quattro rispetto agli anni precedenti non ci sono più fiere internazionali, non ci sono più sfilate per quello che riguarda la moda di alto livello nel mondo e quindi c'è l'impossibilità completa di fare internazionalizzazione soprattutto il mondo della moda per il made in Italy era famoso per quello che sapevamo esportare all'estero e questo blocco ovviamente ci preoccupa tantissimo abbiamo assolutamente necessità di ripartire di vedere la luce in fondo al tunnel che probabilmente soltanto una vaccinazione di massa ci potrà in questo momento dare quindi rispetto a questo il settore della moda il comparto del tessi e l'abbigliamento in generale è davvero in pericolo ma soprattutto rischiamo di perdere un'intera filiera che è stata storicamente nel nostro territorio una colonna portante dell'economia e per fortuna invece non è in crisi l'Università di Urbino che è reduce da un record di immatricolazioni al nuovo anno accademico e sta cercando di adeguarsi ai cambiamenti del periodo come ci spiega in questa prossima intervista il professor Giorgio Calcagnini che da tre mesi e mezzo è diventato rettore dell'Ateneo ci stiamo riorganizzando soprattutto facendo una manutenzione abbastanza precisa della nostra offerta formativa cioè andiamo a vedere essenzialmente quali sono i settori che stanno soffrendo in termini di iscrizioni e cerchiamo anche di capire che cosa c'è richiesto dalla società e dall'economia quali sono le figure professionali che possono essere più richieste e questo è un lavoro che apparentemente sembra abbastanza facile ma richiede il tentativo di cercare di anticipare quali sono i cambiamenti sia nella società che nell'economia accanto a questo c'è stato il tema delle strutture ovviamente la pandemia ci ha messo nelle condizioni di ripensare il modo di fare lezione io spero che dall'anno accademico prossimo anche con l'aumento della vaccinazione si possa riprendere in maniera abbastanza tradizionale però in questo anno, anno e mezzo che abbiamo attraversato in periodi di pandemia abbiamo dovuto investire sulle tecnologie per fare lezioni a distanza quindi abbiamo investito più di un milione di euro sui nuovi computer, sulle telecamere, su microfoni proprio per permettere agli studenti che non sono in presenza di vivere la lezione il più possibile da un punto di vista realistico insomma queste sono le cose su cui stiamo lavorando l'altro tema è quel tema degli investimenti sulle strutture la vecchia governance e il rettore Stocchi avevano iniziato progetti che riguardano i laboratori scientifici quindi tutto il campus ex sogesta, campus Mattei verrà destinato a laboratori scientifici per portarli insomma a livello più elevato della tecnologia e ci sarà una nuova sede per la facoltà di scienze motorie e inoltre cerchiamo di adattare tutte le altre strutture appunto a queste esigenze che sono in qualche modo richieste dalle nuove condizioni di lavoro quest'anno accademico ha visto veramente un boom di iscrizione abbiamo raggiunto circa 5.100 nuovi immatricolati è un valore che non vedevamo dagli anni 90 quando il numero totale degli iscritti aveva superato 22.000 unità a Urbino quindi ci fa molto piacere credo che sia anche un riscontro della nostra offerta formativa come dicevo prima ma anche dei servizi che sia l'università e anche la città di Urbino può offrire agli studenti che anche magari per la prima volta escono di casa e quindi vengono in un ambiente dove possono studiare in modo tranquillo e avere questo rapporto molto diciamo stretto con i professori che sono disponibili a incontrarli cosa che magari in Atenei più grandi questo non accade è morto ieri sera il Monsignor Mario Cecchini vescovo emerito della diocesi di Fano Fossombrone, Cagli e Pergola avrebbe compiuto 88 anni questo mese di gennaio Monsignor Cecchini era ricoverato da anni in una casa di riposo di Senigallia e nell'ultimo periodo era stato contagiato da Covid-19 è stato vescovo a Fano dal 1986 al 1998 per poi diventare vescovo emerito la Confcommercio Pesaro Urbino si schiera apertamente contro la manifestazione Io Apro organizzata dal ristoratore Umberto Carriera attraverso un comunicato l'associazione si dice assolutamente contraria a iniziative populiste, demagogiche e illegali che danneggiano l'immagine della ristorazione e rischiano di creare danni incalcolabili Iniziative, scrive la Confcommercio tra l'altro supportate da fake news o mezze verità l'associazione di categoria ribadisce ai pubblici esercizi che tenere aperto la sera di venerdì 15 gennaio significa mettere ancora più in difficoltà le aziende con sanzioni amministrative e pecuniarie chiusure dei locali oltre al rischio di sospensione della licenza protesta che per la Confcommercio resta invece viva nella richiesta di ristori adeguati Nuove opportunità lavorative per 14 giovani della provincia fra i 18 e 28 anni grazie al bando di selezione promosso dall'Unione Proloco Marche ad annunciarlo il presidente dell'Unione Provinciale e delle Proloco Damiano Bartoccetti che ha aderito al progetto Gli antichi sapori della tradizione un viaggio nell'enogastronomia marchigiana che intende selezionare volontari da impiegare in progetti rivolti a programmi di intervento di servizio civile Ed ora spazio alle vostre segnalazioni grazie per inviarci sempre foto, video e messaggio a questo numero di Whatsapp che vedete in sovrimpressione Il video che ci ha inviato oggi un nostro telespettatore ci mostra il vallato di Rocca Costanza dove è vietato l'accesso tranne che in occasione di specifici eventi autorizzati eppure sempre più spesso viene frequentato da padroni di cani che lasciano senza guinzaglio i loro amici a quattro zampe contravenendo al divieto E continua il nostro spazio dedicato alle segnalazioni in questo caso parliamo della neve e dell'entroterra la prima che vi mostriamo si riferisce al Monte Petrano mentre quelle che vedete ora mostrano il Monte Nerone imbiancato per diversi metri guardate che meraviglia queste immagini stupende ringraziamo chiaramente chi ha voluto condividerle con noi e con tutto il nostro pubblico Il lockdown e le varie limitazioni e gli spostamenti hanno avuto anche l'effetto positivo di dare più tempo e più spazio alla lettura ma anche alla scrittura ecco perché il premio letterario La Donna si racconta si annuncia molto partecipato in occasione della sua ventunesima edizione Ripartiamo, ventunesima edizione il premio prevede come al solito è dedicato alla sezione narrativa e poesia alle donne italiane e straniere e oltre al premio sezione junior study dedicato agli studenti a tutti gli studenti della sola regione Marche e delle scuole dalle medie alle superiori quindi sono escluse le elementari Allora per la sezione degli adulti è previsto un concorso di spese di 20 euro per partecipare ovviamente se si partecipa in entrambe le sezioni la quota deve essere duplicata mentre per gli studenti della sola regione Marche è gratuito proprio per incentivare i ragazzi a scrivere e a confrontarsi con tutto quello che sta succedendo e gli anni scorsi e le precedenti edizioni abbiamo avuto moltissime adesioni da tutta Italia e anche dall'estero quest'anno ci aspettiamo molto di più perché essere stati chiusi per tanto tempo ha permesso a molte donne di mettere su un foglio i propri pensieri le proprie ansie le proprie anche depressioni perché comunque è stato un periodo che ha provato, ci ha provato e ha provato molto tutte le scrittrici mi aspetto grandi adesioni e per avere il bando il bando è qui ve lo mostro sia per la sezione adulti che per la sezione junior study e comunque pubblicato sulla pagina facebook www.facebook.com slash ladonnasiracconta altrimenti potrete chiamare al numero di cellulare 339 81 45 045 per avere dei raguagli ripeto 339 81 45 045 a breve sarà questo concorso questo bando per la sola sezione adulti perché mentre per gli junior study provvediamo direttamente tramite la rete scuola a dare opportuna informazione per gli adulti ci sarà anche l'inserimento in una sezione dei concorsi letterari che a breve comunicheremo sempre via facebook o con altri canali autorizzati ed ora è il momento di parlare di sport perché sabato grande appuntamento per gli appassionati di calcio a 5 con l'Ital Service Pesaro che sarà a Parigi impegnata in Champions League contro i francesi dell'ACCS Futsal una partita che come sempre e lo sapete ormai potrete vedere in diretta su Rossini TV intanto il presidente Lorenzo Pizza ci racconta le sue sensazioni alla vigilia della sfida contro una delle squadre più forti d'Europa sono fiducioso perché comunque ho una grande fiducia nel nostro allenatore tutto il nostro staff tecnico e nei nostri giocatori quindi chiaramente andare a giocare con una delle squadre più forti del mondo che vanta nelle sue fila giocatori a livello proprio mondiale come Riccardigno, Ortiz un allenatore fantastico Velasco che ha vinto di tutto di più sembra quasi un'impresa impossibile però noi siamo, come ho sempre detto ottimisti di natura questo è il nostro DNA questa è la nostra forza siamo sempre stati così quindi io sono ottimista e poi al di là di tutto comunque c'è questa carica questa energia giocare una partita con una delle squadre più forti del mondo ci dà una carica immensa prima di arrivare in Serie A non potevo immaginare quanto fosse affascinante andare in Europa più passa il tempo più mi rendo conto chiaramente questo è il secondo anno consecutivo in cui giochiamo la Champions quindi ci dà anche un certo prestigio è proprio qualcosa di nuovo qualcosa di innovativo è qualcosa che comunque tocca un po' tutti i nostri cuori tutto il nostro DNA e noi lo avvertiamo io lo avverto nelle persone nei miei amici nei giornalisti in tutto lo scudetto è una cosa meravigliosa una finale scudetto è qualcosa di fantastico una finale di Coppa Italia è sempre meravigliosa però io penso che arrivare a giocarsi una finale di Champions sarebbe qualcosa di veramente stratosferico e al di fuori di ogni regola al di fuori di ogni norma continuiamo a parlare di sport perché oggi la Vispesaro ha ufficializzato tre nuovi acquisti che si stanno allenando da martedì al Benelli il portiere senegalese classe 2000 Kadim Di Aie che arriva dall'Atalanta con la formula del prestito il centrocampista 25enne Lorenzo Tassi che era svincolato dopo essere stato allenato dal tecnico Vissino Di Donato la scorsa stagione ad Arezzo ma anche il difensore classe 1987 Manuel Ferrani ingaggiato dalla Viterbese bene allora adesso andiamo subito con la programmazione di Rossini TV perché insomma continuiamo a parlare di sport questa sera si parla di grande sport della Vittoria Liberta Scarpegna Prosciutto Pesaro Marco Cadeddu alle 21.15 incontra Tyler Kane che è pivot della VL Amos Benevelli che è ex giocatore della VL e anche Marco Bedinotti che è giornalista e opinionista e poi vi ricordiamo anche gli ospiti di domani a Casa Rossini sapete che tre volte a settimana siamo in diretta entriamo direttamente nelle vostre case per raccontarvi tanti argomenti per trattare molte tematiche e avere tanti ospiti gli ospiti di domani saranno Giorgio Bartolini che è direttore provinciale della Confesercenti Maurizio Gambini sindaco di Urbino e poi Francesca Tricca che è responsabile della comunicazione di Rossini TV quindi non perdetevi l'appuntamento di domani in diretta alle 10 in replica alle 16 e alle 22 e poi vi ricordiamo appunto questa grande partita che vedrete su Rossini TV canale 633 in diretta anche sulla nostra pagina Facebook sabato 16 gennaio appunto alle ore 19 in diretta da Parigi questa meravigliosa partita tra ACCS Futsal Club e Italservice Pesaro per i sedicesimi Futsal di Champions League e allora grazie come sempre per la vostra attenzione seguiteci sui nostri social mettete like nella nostra pagina Facebook oppure seguiteci su Instagram per essere informati su tutto quello che riguarda appunto Rossini TV io vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa con voi ci sarà Daniele Sacchi in diretta alle 7.20 a domani